Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo c'è il paesaggio, c'è l'ambiente e c'è il territorio. Sono tre concetti diversi apparentemente. Difesa del territorio. Sappiamo che cosa significa, lo sappiamo anche alla luce dei purtroppo recenti avvenimenti qui vicino. L'ambiente, ogni volta che noi discutiamo sulla qualità della vita, non solo nelle grandi città, discutiamo dell'ambiente, di come tuteliamo l'ambiente. Di come tuteliamo l'ambiente. E poi il paesaggio, alla luce anche dell'articolo 9 della Costituzione. Setti si dice, i tre concetti, questo mi sembra di cogliere nella filosofia, nella sostanza dell'un. Dobbiamo unificarli perché l'uno non può essere disgiunto dall'altro. Questo che cosa significa? Significa, voi che amministrate, governate parchi, significa che non possiamo limitarci a considerare le riserve naturali come la giustificazione, la spiegazione, perché noi ci preoccupiamo di preservarla, della tutela complessiva della nostra qualità della vita. Allora, i parchi, in quest'ottica, prima se condividete quello che sostiene Settis, i parchi possono essere una opportunità in questa visione e a quali condizioni? Oppure, come si sarebbe detto 40 anni fa, 50 anni fa, il fatto solo che ci sia il parco in qualche modo ci salva la coscienza? Io poi dirò come la penso su questo tema, anzi l'anticipo e poi vi dirò quello che penso io e vorrei sapere da voi. La natura, così come il paesaggio, devono essere un'occasione, non possono essere delle riserve. Qui non si fa niente, qui non si tocca niente, pensiamo alla realtà abruzzese, abruzzese, mollizzano, qui ci sono degli insediamenti, ci sono dei paesi che storicamente sono insediati qui. Allora come si va avanti? Ma ci arriviamo. Allora, cominciamo di avanti. I parchi, in quest'ottica, sono un'opportunità o possono essere un freno allo sviluppo? Io posso fare una premessa raccontando un episodio. Qualche anno fa organizzai per la provincia di Roma un convegno sull'identità del nostro paese e a questo convegno invitai Lutwak, che è questo politologo americano, il quale venne e disse «Ci vedete, quando i soldati americani sbarcarono in Sicilia, risalirono la penisola, la cosa che più li colpiva è che loro venivano da tutte quante zone interne degli Stati Uniti, i loro paesi erano formati da una strada, da un emporio e qualche volta da una chiesa o comunque un posto dove si andava a pregare. Come entravano nei paesi italiani, che erano uno attaccato all'altro, scoprivano che in questi paesini semidistrutti, frequentati, dove vivevano delle persone povere, assolutamente povere, c'erano delle ricchezze inestimabili. Ogni chiesa aveva un capolavoro, ogni piazza rappresentava un capolavoro, ogni aspetto del paesaggio era talmente lavorato, ed era stato talmente lavorato nel corso dei secoli, che rappresentava esso stesso un capolavoro. Arrivo a questo per una doppia conclusione. La prima è che sono d'accordo con quando Settis dice che le tre, il parco come riserva è un errore, perché in realtà noi dovremmo mettere a parco l'intero territorio nazionale, però con quale concezione? Perché il punto centrale, come dicevi giustamente te, se noi trasformiamo l'intero territorio nazionale, perché di fatto in qualsiasi punto del nostro territorio c'è un'esigenza di difesa, conservazione del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali, però se noi usiamo uno strumento di chiusura e interpretiamo questo come chiusura, noi rischiamo di trasformare il nostro territorio in Disneyland. Innanzitutto buongiorno. Sono più di una le questioni di poste, perché chiaramente si parla di ambiente, territorio e paesaggio, si parla di gestione di ambiente, territorio e paesaggio, si parla di parchi, si parla di quello che è un po' diventato il refrenne degli ultimi incontri che abbiamo avuto con il dottor Diagonale e con il dottor Rossi, della linea di equilibrio fra conservazione e sviluppo. E quindi i temi posti sono diversi e andrebbero ognuno analizzati per capitoli, e richiederebbero diversi approfondimenti. Però appare evidente che l'intuizione di Settis di considerare un unicum i tre diversi aspetti della gestione del territorio rappresenta un'intuizione felice. Tra l'altro ritengo, e mi pare di averlo detto nella sede del Parco Nazionale Gran Sassi-Montile Laga da Sergi, che rappresenta tanto un unicum la trattazione di questi tre elementi da ipotizzare, cosa che allora come Presidente di un'associazione ambientalista proposi nel 2004, e glielo feci vedere prima, di elevare a rango costituzionale la tutela dell'ambiente e di, con una norma e con un tratto di penna asciutto e secco, così come sono i nostri articoli della Costituzione, inserire anche l'ambiente naturale tra gli elementi che andavano tutelati ed elevati a rango costituzionale. Questo avrebbe consentito come fonte primaria la possibilità che la stratificazione normativa che si è poi succeduta in materia di gestione e tutela dell'ambiente avrebbe ricevuto quel rango che merita. Sono stati fatti dei passi in avanti, del resto Settis cita diverse sentenze a proposito, riportando così un'interpretazione dell'articolo 9 a margine del decentramento e della funzione concorrente tra state e regioni cita tutta una serie di norme e quindi credo che i tempi siano maturi per far sì che nella Costituzione italiana entri anche la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità in senso lato a 360 gradi. È chiaro che Settis e vado a concludere parlava anche di ambiente come ambiente di lavoro, ambiente inteso come qualità della vita, ambiente inteso come sviluppo urbanistico, però parlare di ambiente naturale a mio avviso significa parlare di tutti gli aspetti che rientrano nella gestione ordinaria. Parco come opportunità. Il parco è opportunità se oltre al rispetto delle leggi le leggi vengono interpretate in senso di funzione di conservazione ed anche di attuazione di una serie di interventi che possono rappresentare un'occasione di sviluppo. Io cito sempre l'idea della infrastruttura che poi nei parchi rappresenta un problema. Infrastrutturare i parchi è sempre un problema perché è scontra con tutta una serie di fattispecie burocratiche e amministrative. Però l'infrastruttura non è come dico sempre la realizzazione di un'opera sicca e semplicita ma è un'analisi dinamica del territorio che abbia presente non solo le risorse ma anche i detrattori e che ne nascono le conseguenze. Perché poi facciamo un giro brevissimo proprio su questo. Sì, grazie. Ma io credo di condividere pienamente quanto poi in fondo possiamo considerare un po' le conclusioni di Settis nel suo libro. Conclusioni che arrivano però dopo un processo anche interpretativo del concetto di paesaggio. Non lo dimentichiamo questo perché ancora oggi noi dobbiamo lavorare molto sul cambiamento di questo concetto e l'interpretazione di che cosa è veramente il paesaggio. Perché credo in Italia e non soltanto in Italia quando si parla di paesaggio naturale dove magari non è approfondito come tema nel libro di Settis ma dall'esame dall'approfondimento diciamo dell'articolo 9 della Costituzione noi questo possiamo ben comprenderlo. Il paesaggio quindi è divenuto qualche cosa di dinamico di complessivo ecco perché al termine paesaggio aggiungiamo territorio e ambiente. Io vorrei fare un esempio pratico perché visto che poi stiamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo se qualcuno magari dovesse averne l'opportunità lo inviterei a fare andando qui non lontano da Pescassero ripresso il santuario della Madonna di Monte Tranquillo la Madonna Nera ecco alle spalle del santuario c'è un bel vedere che ci permette di osservare un paesaggio straordinario cioè all'infinito vorrei dire sfiolando tutti i monti come dire a corona del parco non si nota neppure un intervento dell'uomo non c'è un palo non c'è una strada non c'è una costruzione non c'è nulla però per chi poi conosce il territorio per chi lo percorre per chi lo visita sa che invece in quel territorio in quel paesaggio immacolato c'è un altro paesaggio che è un paesaggio vivo fatto della presenza dell'uomo fatto delle strutture a servizio dell'uomo ma fatto anche degli animali del parco quindi di questo paesaggio fanno parte non soltanto i centri i villaggi del parco straordinari che conservano peraltro anche valori culturali storici artistici di primissimo ordine ma fa parte anche quella biodiversità che i parchi sono chiamati a tutelare e quindi il paesaggio che la costituzione rende come dire fondamento pone tra i principi fondamentali fondanti della nostra repubblica è un paesaggio che anche diciamo rispetto a quanto ha previsto il legislatore nel 1947-48 è cambiato e io a Settis avrei voluto chiedere come dobbiamo fare anche dal punto di vista se vogliamo non tanto dell'aggiornamento della Costituzione ma dell'applicazione di questo principio della Costituzione bisognerebbe poi che i governanti ai vari livelli impostassero le proprie politiche di intervento sul territorio questo implicherebbe anche quel concetto di opportunità cioè il vincolo perché di questo poi si tratta e dobbiamo avere anche il coraggio di usare i termini per quelli che sono evidentemente perché all'opportunità si accompagnano necessariamente dei vincoli altrimenti non avrebbe senso tutto quello che Salvatore Settis ha ricostruito ha scritto in questa in questa sua bella opera perché l'aggressione la distruzione del paesaggio in Italia c'è stata non la possiamo negare e continua ad esserci probabilmente se non corriamo ai ripari attraverso appunto l'applicazione anche dei principi fondamentali della nostra Repubblica continuerà i parchi possono essere stiamo legati ai parchi ma ci sono le superintendenze ci saranno anche i governi locali attraverso magari poi questo ne potremo parlare una corretta interpretazione del cosiddetto federalismo che cos'è il federalismo come può incidere il federalismo fiscale sulla tutela del paesaggio e su una sua corretta valorizzazione insomma questo libro di Settis ci inviterebbe a fare una discussione di ore e ore ogni pagina meriterebbe un approfondimento e un dibattito io credo che sul piano dell'opportunità però i parchi oltre a rappresentare un baluardo dicevo per la tutela del paesaggio inteso così come io mi sono permesso di indicare devono costituire anche un'opportunità sostenibile tra virgolette che non sia quella che non sia quella che non sia quella che non sia quella Grazie a tutti